Vestigie di antichi popoli avvolti nel mistero, una torre che guarda il mare, la costa del cerrano, connubio perfetto di arte e natura. Occorrono diversi anni affinché i risultati della tutela si manifestino pienamente. Il cosiddetto effetto riserva. A quasi dieci anni, dall'istituzione dell'area marina protetta Torre del Cerrano, questo effetto comincia a manifestarsi. Autore dei sottotitoli a cura di QTSS